Musica Vi devo presentare un altro ospite che ci ha raggiunto in studio è l'economista Fabio Fortuna, rettore dell'Università Telematica Niccolò Cusano. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Professore, con lei torno un attimo alle motivazioni della visita ufficiale se è affrontato il tema dell'energia, del caro energia. Le chiedo, non si riesce a vincere le resistenze di Germania e Olanda su uno strumento che per esempio il commissario Gentiloni ha proposto che è un nuovo fondo come SURE, il fondo per la disoccupazione, per aiutare famiglie e imprese. Come si vincono queste resistenze? È un po' difficile perché mi sembra che in alcuni casi si prendano posizioni per partito preso e poi manca forse quello spirito essenziale in un ambiente dove l'integrazione dovrebbe essere già avvenuta ma dove in realtà ancora siamo lontani da una integrazione armoniosa. Per cui convincerti è un po' difficile. Abbiamo visto su questi temi il confronto duro. Questo fondo sarebbe opportuno, sarebbe stato opportuno, perché già siamo in ritardo, stanziare dei fondi per i paesi che ne avevano bisogno, lo spirito della Costituzione Europea, della solidarietà, ma così non è avvenuto. Vedremo se sarà possibile, ma è complicato. C'è un'altra cosa professore che abbiamo sotto osservazione che riguarda lo strumento della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche che hanno guadagnato tanto coi rincari del gas. Questa misura, attuata anche in Isalia dal governo Draghi, ad esempio non ha portato il gettito che si sperava. Perché? Non ha portato il gettito che si sperava, cioè circa 10 miliardi, con aliquote prima del 10 e poi del 25%, perché non era chiara la base imponibile. La base imponibile di un'imposta, di una tassa, deve essere unutile. Non possiamo prendere come base imponibile il fatturato. E quindi le società hanno sollevato delle questioni a riguardo e ci sono stati mancati pocamenti. Però mi sembra che si stia riprendendo il discorso per intervenire con adeguati correttivi per rendere possibile la sassazione degli extra profitti, cioè quei profitti che sono venuti in più in maniera ingente rispetto al normale in funzione dell'aumento dei prezzi e delle risorse energetiche. L'altro allarme dell'Unione Europea, professore, riguarda in questo momento il caro vita, riguarda un po' tutti, anche gli Stati Uniti. Le chiedo, si parla tanto di speculazione. Si può fermare concretamente la speculazione? La speculazione fa un po' parte del libero mercato. Certamente quando raggiunge dei livelli come quelli che stiamo vedendo è una speculazione che è sulla normalità. Ma strumenti regolamentari e normativi per frenarla, a dire il vero, non ci sono. Perché poi ciascun partecipante al processo produttivo carica il maggior prezzo su tutti gli altri. Il consumatore se ne addossa l'ordine. Professore, faccio vedere a lei e ai nostri ospiti un'importante novità decisa dal Parlamento Europeo che riguarda la collocazione di colonnine per le ricariche delle auto elettriche. Dovrà essercene una ogni 60 chilometri nelle strade principali. 600 mila i posti di lavoro a rischio nell'Europa, 70 mila in Italia. Professore, le chiedo veramente queste le ricadute sull'occupazione? Le ricadute ci sono perché la data, anche se sembra lontana, al 2035 in realtà è molto più vicina come sensazione. Quindi è necessario riconvertire alcune professionalità, trovare nuove professionalità confacenti al discorso ecologico che riguarda il presente e il futuro e sviluppare anche un processo formativo che dovrà partire dal mondo della scuola. Adesso verranno rinforzati molto i famosi istituti tecnici superiori attraverso i mezzi del PNRR, quindi creare delle figure che oggi in Italia mancano e mancano anche un po' in Europa. Certamente il problema c'è perché una diminuzione occupazionale va messa in preventivo perché alcune imprese che oggi producono per le forme... Componentistica, ad esempio, si troveranno in difficoltà. Professore Fortuna, si parla ormai da anni del processo di allargamento nei confronti dei Balcani occidentali, ci vuole del tempo, ci sono delle resistenze. Io le chiedo, a livello economico, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'allargamento? Ma i vantaggi e gli svantaggi dell'allargamento possono essere sintetizzati pensando che una comunità di 27 Stati, se allarga l'orizzonte e riesce a inglobare altre realtà, può aumentare notevolmente le proprie potenzialità come blocco europeo che si contrappone economicamente a Stati Uniti e Cina. Certamente però bisogna stare attenti perché in Europa c'è spesso il problema dell'unanimità nelle decisioni e quindi aumentare il numero significa anche rendere più problematiche alcune decisioni e forse bisognerà rivedere nei trattati questi aspetti che spesso hanno costituito dei problemi. Però dobbiamo vedere sempre positivamente questi fenomeni geopolitici. Grazie all'economista Fabio Fortuna, rettore dell'Università Telematica Nicola Cusano. A tutti voi grazie per averci seguito. Punto Europa torna la prossima settimana a 10.05 su Rai3. Grazie, buona giornata.